Siamo con il giocatore del Gasperina, Luca Sgro, grande rientro del nostro ex capitano del Gasperina. Grazie alla mano d'aiuto che ci ha dato oggi, Luca. Cosa ne pensi di questa partita oggi, Luca? È sicuramente sempre un grande piacere rigiocare nella squadra del proprio paese dopo 50 anni. Quindi ringrazio la società e l'allenatore per avermi chiamato a dare una mano a questa squadra. Sono contentissimo, fiero, un po' stanco perché c'è qualche anno di troppo. Però diciamo che tutto sommato la grande voglia di giocare il pallone, il grande piacere, ti porta ad affrontare grosse battaglie. È stata una battaglia, è un orgoglio e forse Gasperina. Sempre Gasperina, forse Gasperina.